ma non è il freddo cane ma non c'è un posto per sedersi qua in giro oh, c'è? oh, ciao ma che cazzo fai? oh, sei seduto sul Gesù Bambino, non so se rendo l'idea scusa, scusa, era seduto sul Gesù Bambino, no scusa, un attimo era un modo per dire Buon Natale